Il terzo per il triestino Lorenzo Svidersic, il quarto per il lungherese Philippe Christian al quinto posto Francesco Palatella Quanto contiene invece la mezza maratona, abbiamo detto più volte Diego, Kenna, Kisan, Kenna, Scaini, Agnello, Cosovelli, Slovenia, Micah, Cosovelli Poi Fabio Bernardi, Francesco Temiti, David Davis ovviamente al podio erano premiati con le varie autorità da Stefano Ceniere i primi tre di ogni gara Per quanto riguarda invece la gara di mezza maratona, marturina di due castelli al femminile ricordiamo allora l'1.11.23 di Rosalia Conscio, le fiamme gialle il secondo posto della Keniana Perfetto Emily Cepcolir della New Food Perona 1.15.04 al terzo posto la slovena dell'atletica bruniera figlioli in tagli, Matea Cosovelli 1.17.25, queste tre sono poi pronte per essere premiate che anzi che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1'07.12 la consegna a Vincenzo con il colonnello Rappuano. Congratulazioni assolutamente, confezione anche ovviamente. Eccoli che stanno arrivando, questi grandi, grandi atleti, eccoli che si posizionano. A terzo posto, Luigi Rinaudo, al secondo posto con 1'35, 42, polisportiva da Nascorizia, Cesare Piccini. Eccolo qui con l'assessore Edera e il direttore, il dottor Zanelotti, che consegnerà poi al vincitore. A Cesare Piccini facciamo ovviamente le congratulazioni anche a Luigi Rinaudo, che non è qui, magari ci raggiungerà.